Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. Scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in una zona rurale di Piazzolla di Nola, una fabbrica clandestina di artifici pirotecnici e fiamme gialle, hanno rinvenuto numerosi macchinari, oltre una tonnellata di artifici pirici pronti per essere immessi sul mercato, migliaia di prodotti utili per il confezionamento e quasi cinque quintali di polvere pirica. Tra i botti sequestrati, molti avevano marchio CE contraffatto, altri erano confezionati con la scritta Dios e con i colori della nazionale argentina di Maradona. Anche gli esami sul materiale sequestrato, effettuati con l'ausilio di personale specializzato dell'esercito, hanno confermato una composizione particolarmente instabile, pericolosa e altamente esplosiva della polvere pirica. Arrestati tra i responsabili per detenzione e omessa denuncia di materiale esplodente, tutti originari della provincia di Napoli. Lo scheletro dell'ultimo fuggiasco ritrovato di recente in una campagna di scavo sull'antica spiaggia di Ercolano, aveva una borsa a tracolla contenente diversi tipi di materiali, oggetti di uso comune connessi tra di loro, che saranno attentamente studiati in laboratorio, per poi essere sottoposti al restauro. E' quanto emerso al Parco archeologico di Ercolano, in un incontro al quale ha preso parte anche Giovanni Di Blasio, direttore generale grande progetto Pompei, archeologi e restauratori. Il rinvenimento in posizione supina del fuggiasco, un uomo di circa 40-45 anni, allontanatosi dal gruppo dei circa 300 ercolanesi ritrovati nei fornici, oppure un soldato di Plinio giunto per portare soccorso agli abitanti dell'antica città, nell'eruzione del 79 d.C., ha consentito di mettere in campo uno studio transdisciplinare. Gli oggetti della vittima, col corpo interessato da numerose fratture e vicini al suo scheletro, consentono ad archeologi, antropologi e restauratori di lavorare in sinergia, per giungere a una corretta lettura e interpretazione della scoperta. Di particolare interesse è anche una cassettina in legno, una sorta di borsa a tracolla. Oltre al legno della scatola, gli archeologi hanno rinvenuto anche pezzi di stoffa, tracce di finitura in oro di notevole interesse storico, ma di complessa rimozione, e per questo motivo si procederà con uno stacco del pane di terra sottostante per proseguire in laboratorio al recupero e all'esame della cassettina. Quindi seguirà una fase di indagini di ciò che vi è contenuto e alla pulitura, che porterà infine a un intervento di restauro. Dopo due anni scanditi dal Covid, tornano facendo rete a favore dei bambini disabili il calendario di ANEF 12 scatti contro l'indifferenza e il premio del quotidiano napolivillage.com, ambasciatori del sole. La serata andata in scena a Villa Posillipo, a Pozzuoli, è stata presentata da Claudio a Mercurio, ha permesso di raccogliere oltre 13.000 euro frutto della vendita dei calendari e dell'assa di beneficenza, in cui è stata venduta una maglia storica di Maradona donata poi a Francesco, uno dei tanti ragazzi assistiti da ANEF. Ascoltiamo Carmen Manfellotto, presidente di ANEF. Abbiamo deciso di non far intervenire personaggi nel mondo dello spettacolo, bensì i ragazzi disabili con le loro famiglie e abbiamo pensato di farli divertire all'interno del studio del fotografo Roberto Rigillo facendoli vestire in abiti d'epoca del Settecento. Tra gli ospiti, Raffaele De Lucia, editore e direttore di napolivillage.com, insigniti del ruolo di ambasciatori del sole, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il rettore della Federico II Matteo Lorito, Roberto De Laurentiis, Monica Sarnelli, Francesca Filardo, Iarmonica, Tommaso Mandato, Pasquale Riccio, Caterina Laite, Maria Rosaria Bacchetta, Antonino Della Notte, Amedeo Manzo, Ciro Fiola, Bianca Iengo e Giuseppe Noschese. Edizione 3 più 1 del premio ambasciatori del sole, abbiamo recuperato l'edizione che abbiamo perso per colpa del covid, quest'anno abbiamo deciso di sposare il decennale di ANEF che ha presentato come ogni anno 12 scatti contro l'indifferenza che abbiamo sostenuto con la nostra redazione. Il motto di quest'anno era si può fare perché realmente si può fare stando vicino soprattutto agli ultimi, in questo caso ai bambini dell'associazione ANEF. I bambini vanno tutelati sotto tutti gli aspetti e noi dobbiamo guardare in un certo modo il terzo settore e affinché questi bambini possano avere le cure necessarie per stare almeno un po' meglio. Hanno bisogno soprattutto di tanta compagnia, di tanti amici e tanta solidarietà, quindi questo è il vero sostegno e la vera medicina. E anche nella medicina solidale ovviamente tanti di loro ricevono tanto amore. Napoli c'è, nei momenti difficili, nei momenti in cui bisogna fabbricare fiducia e speranza e nei momenti in cui bisogna dare un sostegno. C'è un po' di rammarico per come è stata gestita la gara a Sassuolo, questo pareggio che profuma di sconfitta. Il Napoli è ancora primo, però domenica arriva l'Atalanta. E' certo, la sostituzione di Mertens, che era quello che è sempre un pericolo per gli avversari, forse non andava fatta, però a dirlo dopo è facile, insomma. L'allenatore forse voleva preservarsi i giocatori, però essendo uscito in signe, Ruizzo lo stesso si era fatto male, era meglio tenerlo in campo per dare un pericolo. L'arbitro ha inquaiato tutto, è stato proprio in mala fede, secondo me, in mala fede, perché quello non è punizione. Se andava al VAR vedeva come la seconda volta che ha annullato il gol. L'arbitro non ci ha favorito perché sul secondo gol di Berardi, o meglio, sull'azione di Berardi, lì c'era anche un altro falso. Ma al di là di tutto il Napoli comunque è una squadra viva, forte e che può competere sicuramente. Certo, gli infortuni sono stati determinanti per i prossimi incontri, però io sono fiducioso perché Spalletti rimette sempre in sesto una squadra che sembra che quasi stia lì per cadere e poi risorge di nuovo. Io penso che comunque con l'Atalanta metterà su una squadra decente al punto da poter poi dire la sua. Secondo me la partita l'ha persa Spalletti, con quei cambi non idonei, con un sassuolo che conosciamo che non si ferma davanti a niente, tutti i 90 minuti corrono. I giocatori non ci hanno capito niente, i ricambi soprattutto Demme quando è entrato è stato inesistente, non ha aiutato per niente. Comunque vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché il fallo c'era alla fine, però se non c'era la tecnologia potevamo anche andare a casa con zero punti. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.